Ciao ragazzoli belli ben ritrovati all'interno di questo video Oggi siamo qua per andare a vedere una tecnica speciale per andare a raccogliere più velocemente la semina E' una cosa che probabilmente qualcuno di voi forse conosce già Io ve la andrò a spiegare nel modo più chiaro possibile Mi raccomando però voi iscrivetevi al canale perché siamo lì vicino ai 13.500 Quindi sarebbe molto interessante arrivarci Lasciate mi raccomando like a questo video A tutti gli altri, li trovate nella playlist sempre cliccabile qua in alto a destra Lasciate like e soprattutto condividete con i vostri amici E se avete voglia vi lascio qua sotto il link per TikTok e Instagram Che sono due social che io utilizzo molto Insieme al link per collegare Twitch all'Amazon E poter fare l'abbonamento gratuito Molto 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 ads Ehi dei, oggi episodio semina Quindi cose particolari riguardo alla semina Cercheremo di spiegare il tutto nel modo più chiaro possibile Per andarlo a fare però prima andiamo un attimo a mettere il granato turco da qualche parte Ok via perfetto così siamo sicuri E nel mentre cerchiamo di capire come sta andando il profilo Non so se lo sapete guarda mentre rifiutiamo gli inviti che mi continuano a spammare Che io ormai qua sono corteggiato dagli inviti Quindi questa è una cosa che non va troppo bene Cerchiamo di rifiutare il più possibile Riguardo al pass stiamo andando molto bene Oddio molto bene è un parolone Siamo a 296 punti quindi praticamente metà pass Non vi preoccupate perché lo finiremo Perché 14 giorni lo finiamo tranquillamente Dobbiamo semplicemente avere ancora un attimo di pazienza Che sto per finire alcune missioncine che abbiamo qua belle belle pronte Finiamo quindi queste missioncine E poi siamo belli che a posto Finiamo il pass che ci dovrebbe dare nei prossimi punti Un sacco di livelli esperienza Un sacco di monetozze E quindi un botto di nuovi contenuti in arrivo qua sul canale E in programma un video riguardo alle api Ve lo porterò il prima possibile Quindi cercate di iscrivervi al canale E attivare la campanella Per non perdervi quella tipologia di video lì Che secondo me può essere interessante Detto questo non perdiamo troppo tempo Andiamo subito a vedere questa tecnica qua Che come funziona È una tecnica di semina veloce Se si può definire così Normalmente si semina schiacciando qua E andando a raccogliere in modo molto molto ez Con questa tecnica avremo la possibilità di fare questo movimento Senza andare a selezionare il campo di grano E in realtà andando proprio a La tecnica speciale è quella di andare proprio a A raccogliere proprio più velocemente il grano Questo perché? Perché si vanno a sfruttare più dita Come farla quindi? Quindi basta andare a schiacciare un qualsiasi campo di grano Una volta fatto questo si seleziona con più dita E si va a prendere il tutto Guardate va? Finito In un secondo ho raccolto tutto il grano Che avevamo piantato dentro Quindi questa è una cosa importante Da capire Basta posizionarsi con tre dita Sullo schermo Io lo uso con tre dita Se no potete farlo anche con quattro dita E andate a Automaticamente a raccogliere in modo molto molto rapido Il tutto Per riguardo all'andamento del villaggio Mi si è completato l'estrattore di miele E quindi andremo a fare anche un video riguardo Come vi ho detto prima le api Finirà anche il gioiegliere Cercherò di capire un attimo Come gestire anche il gioiegliere Approfitto della situazione per andare A riscuotere qualche Qualche lanetta di pecore Che qua abbiamo le nane Delle pecore belle belle sgradate Quindi andiamo subito a raccoglierle Per bene qua caprette Che stanno un attimo affamate Le andiamo a prendere Guardiamo qua Se c'è qualcosa da dare alle mucche Sì abbiamo 5 di cibo per mucca da darle Quindi subito dentro così Con 5 di mucca Quest'altro mi sembra abbastanza Abbastanza tranquillo il tutto Molto 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 bene Adesso Signore Signore Le signore esche Hanno bisogno di un attimo di cose A proposito Se avete visto C'è un piccolo spoglierino Scrivetemelo qua sotto nei commenti Si è visto per un piccolo frame del video Quindi tornate indietro se non l'avete visto C'è un piccolo frame Nel quale vi faccio un piccolo spoiler Di un video futuro Che secondo me Potrebbe interessarvi E non poco Nel mentre però Andiamo subito a Ad attuare la nostra tecnica Che è quella del Posizionamento di reti Impazzite qua dentro E Altre reti Pazze qua dentro Andiamo un attimo a vedere qua Com'è la situazione Perfetto Mi sembra Tutto abbastanza in In regulus Quindi molto 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 bene Con questo farming Estremo di Di pescioliniz Riguardo al resto Altre mucchette qua Da sfamare Quindi tre mucchette Si prenderanno Il nostro bellissimo Cibo per mucche Approfitto della situazione Per andare a mettere Un po' di cibo per galline Che sono un attimo Affamaticce E non vorrei mai Che mi rimangano Senza cibetto Andiamo a cercare Nel giornale Possibilmente Della soia Che sicuramente Non verrà Mai recapitata al VAP Però abbiamo il Greg Il Greg è la pioggia Quella che tutti ormai Lasciano da parte Ma noi non la lasciamo Mai da parte Il Greg è fondamentale Vi ricordo che Devo andare a riscuotere Assolutamente Le uova di Pasqua Ho fatto un video Riguardo a tutte le uova di Pasqua Se vi possono interessare Lo trovate qua in alto Nelle schede Cliccabili Ci sono tutte le posizioni Delle uova Quindi giornata numero 3 Riscossa per noi Vi ricordo che queste uova Vi danno delle ricompense gratuite Senza fare assolutamente niente Quindi può essere Veramente utile Andarle a A sbloccare il più possibile Perché sono cose Che vi danno gratis E vi aiuteranno Magari poi Per la crescita generale Del Del profile Quindi no problem For For this Andando avanti Uova numero 4 Per oggi 5 gemmine prese Molto molto bene E adesso uova numero 5 Domani Dovremmo andarlo ad aprire Quindi oggi in live Andremo a sbloccare Qualcosa di interessante Quindi vi aspetto Numerosi Andiamo dal Gregut E andiamo a riscuotere Qualcosina da lui Perché ha il cibo per capre Ha il seghetto Ha un po' di Zucchetti Di Di cannoda Zuccherots E quindi Dentro subito con Le nostre caprettine Che gli andiamo subito A A sgradellare Con un po' di Con un po' di cibetto Per Con un po' di Cibetto Per Per capertine La barca Oggi ha bisogno Di un po' di aiuto E quindi andiamo a cercare Di farmare In modo pesante Per la nostra barca Che la vedo bella In difficoltà Se no qua Non la finirò mica io Approfitto Della situazione Per andare Per andare a mettere Altro grano turco In bancarella In modo tale Da andare A completare Un po' Tutto il Processo Di farming Che risulta essere Abbastanza Importante Adesso Qui Dentro così Altra tecnica Così al volo Con due dita Avete subito finito Vedete perché C'è il double touch Nel caso della semina Che vi permette Di andare A sbloccare In modo più rapido Il tutto Secondo me Ne vale Assolutamente la pena Come tecnica Generale Di produzione Di robe particolari La tecnica Per farmare Più velocemente Era questa La tecnica Per andare A raccogliere Più velocemente Le semine Un po' di tutto Insomma Ho cercato di Assumerla All'interno di un video Spero che vi sia piaciuta Me l'hanno consigliata Dei ragazzi in chat Quindi se avete Dei video Che vorreste vedere Delle tecniche particolari Dei tips Magari da pro player Di quelli che giocano Magari da un po' Più di tempo Delle curiosità Scrivetemele qua sotto Nei commenti Perché io Sono abbastanza propenso A leggerli A lasciare like E a prenderci spunto Per eventuali video Quindi vi aspetto qua sotto Per creare una conversazione Vi ricordo Se non avete ancora fatto L'iscrizione Che è veramente facile da fare Like Al canale E al video in generale Vi lascio qua sotto I nuovi link Vi ricordo TikTok e Instagram E il link per collegare Twitch Ad Amazon Prime E far l'abbonamento su Twitch Se no far l'abbonamento Qua 1,99€ Per avere la mia amicizia Dai Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti